Questi regressi o corrispondenzie, disse Leonora, hanno molto del buono negli versi, ma pariano molto meglio negli uomini verso di noi, e seria questa la più bella e dolce musica se si accordassimo un tratto e facessimo questa santa pace insieme di altra che si potesse udire nel mondo. Così pare anche a me, disse Corina, ma Elena soggiunse, mi accordo pure io con lo mio sposo, se non avete avuto voi altre mo' questa grazia è colpa della vostra disavventura e non di loro. Oh, tacete per vostra fe', disse Leonora, che mi farete dire qualche cosa oggi, non è molto che voi confessaste che gli è geloso e perciò non vi accordavate insieme, nel resto poi pensate a quel verso, che raro a bel principio il fin risponde. In vero, disse Cornelia, che gli uomini non dovrebbero studiare di imparare altra musica, come dice Leonora, che di accordarsi con noi, perché dalla discordanza che hanno con le donne, udite che tristo suono ne riesce loro, che non si ode se non biasimo, vergogna, dispregio e mille mali, che siamo sforzati a trattare di essi, combestemmiarli, maledirli e disonorarli contra di nostro genio, costume e volontà, che è solita di sofferire ogni cosa e passar con silenzio le nostre calamità, ma sono essi tanto infesti ed importuni che al fine ci fanno perdere in gran parte la pazienza. Sapete bene, disse Leonora, che una sola corda o voce falsa pone in disordine tutta la musica, però non è maraviglia se tanti animi falsi e discordanti degli uomini non si confanno con noi donne, che per la gran differenza che è tra noi e loro, penso che se ben volessero, non potriano accordare mai tanta malizia loro e tanta bontà nostra. Si sa bene, aggiunse Cornelia, ma udite, a proposito di queste corrispondenze, una ottava che già mi fu data da un gentilissimo spirito, la qual credo non vi spiacerà, e dice così «Arsa dal crudo amor che la tormenta aurenia, che nel mar supero nacque, mentre è tutta al suo ben volta ed intenta, con le fiamme che ha in sé consuma l'acque, teme ed uolse nel mar, che si ramenta, fetonte il fuoco, ond arso in fondo giacque, ed ella, alcun timor già non vi tocchi, quanto vi toglie il cor vi rendono gli occhi». Ebbero molto grato le donne udire la sopradetta stanza, e tanto loro piacque che se la fecero un'altra volta a replicare da Cornelia, e la regina disse «Questo comporre certo ha una particolare preminenza, parmi, sopra l'altre virtù, perché, oltre che come si è detto, è grazia divina con che nasce l'uomo, a questo di più, che abbraccia in sé tutte le altre scienze, perché un poeta è abile a parlare da ogni cosa, e riesce in tutto assai bene e graziosamente». «Parmi», disse Lucrezia, «che il poeta abbia gran conformità col pittore, perché sì, come quel va con lo stile dipingendo e variando disegni e colori, con pieni vacui, ombre, linee, impressi e rilievi, così il dottopoeta con la penna va figurando con parole varie i bei disegni, che ha nella mente immaginati e concetti». «Voi discorrete benissimo», disse Corinna, «anzi, è così propria la comparazione che non le si può opponere». «Oh», disse Cornelia, «non dite così, perché il vedere un bel ritratto cavato dal naturale permandi a alcun eccellente pittore, dove si comprenda vivamente tutta la forma, aere, lineamenti e fattezze dell'immagine, che par che spiri, che parli e che abbia senso e moto, credo io che molto più vaglia e sia molto miglior opera che il vedere scritto dieci righe, ancorché fussero in tutta perfezione». «Voi vi ingannate assai bene», disse Corinna, «perché fare conto che la pittura sia un corpo estinto, ed il verso sia all'anima senza il corpo, quanto dunque più nobile l'anima del corpo, tanto è più la composizione delle parole della composizione dei colori». «E così», disse Cornelia, «la pittura sarebbe corpo della poesia e la poesia anima della pittura». «Questo comporre, certo, ha una particolare preminenza, parmi, sopra l'altra virtù, perché, oltre che, come si è detto, è grazia divina con che nasce l'essere umano, ha questo di più, che abbraccia in sé tutte le altre scienze, perché un poeta è abile a parlare di ogni cosa e riesce in tutto assai bene e graziosamente». «Parmi», disse Lucrezia, «che il poeta abbia gran conformità col pittore, perché, e sì, come quel va con lo stile dipingendo e variando disegni e colori con pieni, vacui, ombre, linee, impressi e rilievi, così il dotto poeta con la penna va figurando con varie parole i bei disegni, che ha nella mente immaginati e concetti». «Voi discorrete benissimo», disse Corinna, «anzi, è propria cosa la comparazione, che non le si può opponere». «Oh», disse Cornelia, «non dite così, perché il vedere un bel ritratto cavato dal naturale per man di alcun eccellente pittore o pittrice, dove si comprenda vivamente tutta la forma, aere, lineamenti e fattezze dell'immagine, che par che spiri, che parli e che abbia senso emoto, credo io che molto più vaglia e sia molto miglior opera che il vedere scritto dieci righe, ancorché fussero in tutta perfezione». «Voi vi ingannate assai bene», disse Corinna, «perché fare conto che la pittura sia un corpo istinto e il verso sia l'anima senza il corpo». «Quanto dunque è più nobile l'anima del corpo, tanto è più la composizione delle parole della composizione dei colori». «Così», disse Cornelia, «la pittura sarebbe corpo della poesia e la poesia anima della pittura». «Tanto è», disse Corinna, «ma lasciamo andare questo. Egli è pur anche una gran virtù, questa per la quale si conserva l'immagine viva alla memoria dei posteri dopo la morte nelle persone». «Sì», disse la regina, «ma occorre che il pittore o la pittrice sia in tutta eccellenza, che non faccia torto all'arte». «Chi avemo ai nostri tempi», disse Cornelia, «che sia degno di nominarsi per raro e famoso pittore». «Ho udito», disse Lucrezia, «nominare il signor Giacomo Tentoretto e una sua figliuola di stupendo valore». «Il signor Paolo Veronese», disse la regina, «fa miracoli in questa professione perché è il che ho veduto con gli occhi miei propri». «Allora», disse Elena, «io confesso che la pittura è un'arte meravigliosa, ma parmi che la scultura ancora sia molto da comendare e quasi più bella della pittura, come quella che ha il rilievo che molto importa e perciò rappresenta più propriamente la qualità e forma di un'immagine che non la pittura, la qual con tutto che per forza dell'ombra accenna il rilievo tuttavia non si scorge così spiccato e così pronto come fa nella scultura». «Voi non la intendete molto», disse Corina, «perché la pittura è d'assai maggior dignità in tutti i modi». «Ed è numerata fra le arti liberali ed è di più nobile efficacia che la scultura, perciò che, ancora che la scultura abbia il rilievo che voi dite, la pittura non è senza, come avete confessato, e non vi parlo quanto al tatto ma quanto alla vista, ed apposcia di più la vivacità di colori per più nobile espressione e perfezione dell'opera». «In quei tempi antichi, rispose Elena, usavano pur quei prudenti romani di immortalarsi più col mezzo delle sculture, le loro immagini e memorie, che con la pittura, di che ancora si scorgono tante eruinate reliquie per tutta la città di Roma». «Forse», aggiunse Corina, «perché giudicarono che più durasse la fattura di una pietra che di una tela o tavola, tuttavia non lasciarono da parte quest'altra». «Beh, si potesse», disse Eleonora, «trovare un pittore o pittrice o scultore di tanta eccellenza che sapesse ritrarre dal naturale la forma intrinseca degli esseri viventi, sì che si potesse scorgervi chiaramente tutto il secreto dei cuori loro. A ciò non potessero essi o esse con falsa apparenza ingannar più la nostra semplicità. Perché, sebbene alcune di noi, come disse Lucrezia, ancorché comprendano la loro malizia, non ponno restar di amarli e soffrono di essere beffate da loro, ve ne sariano molte che non patirebbero tanti torti e villanie che loro usano con tante fraudi e colorate menzogne». «Dè, Dio il volesse», ripigliò Virginia. «E», seguì Corina, «oggi di par che sia molto più in pregio la pittura e pochi si servano della scoltura se non in caso di onorar qualche persona di importanza, come principe, signore o capitano illustre, a cui per gli meriti del suo valore si solino drezzar statue, colonne e simili edifici a perpetua memoria della sua fama, come molte volte in varie occasioni hanno fatto anche questi nostri signori per la gloria di lor benemeriti soldati e cittadini. «Degnamente, certo», disse Lucrezia, «si denno tali onori a si fatti personaggi e di statue e di pitture e di poesie immortali, come quelli che spendono la lor vita per la patria, o principe son degni che lor sia restituita in qualche maniera». «Fanno molto da prudenti», disse la regina, «a venerar così la vita e la fama di tali lor benemeriti, poiché danno perciò animo agli altri di non risparmiar la lor vita con sì generosa speranza». «Almanco, al tempo antico», disse Cornelia, «potevano esercitarsi senza questi rispetti, e come dovevano parer buono, come si legge quei cavalieri che con la fortezza del cuore e la gagliardia delle braccia si acquistavano la vittoria». «Vorrei che fosse quel tempo», disse Eleonora, «che vorrei che noi donne tutte si armassimo come quelle antiche amazzone ed andassimo a combattere contro questi uomini. In ogni modo è opinion comune che vi siano al mondo più donne che uomini, ed in quello che mancarebbe la nostra delicatezza per non vi essere avvezze, suppliressimo col maggior numero». «Certo», disse la regina, «che quanto a me vi lascerei ben andar sola a questa impresa, perché son donna di pace». «Egli è», disse Corinna, «perché noi non si degneressimo di far battaglia con nostri minori, che quanto al resto, se ben siamo più deboli di forze, per la ragion che avemo dal canto nostro la vittoria sarebbe certa per noi». «Credolo», disse Lucrezia, «ma che impresa di grazia, cara Leonora, portareste a questa gran guerra». «Porterei sopra l'elmo la Fenice», disse «Ella». Ed Elena aggiunse, «Voi vorreste imitar quella gran marfisa di cui era la Fenice insegna, e di cui parlando quel leggiadro poeta disse in tal proposito, o sia per sua superbia, dinotando se stessa unica al mondo in esser forte, oppur sua casta intenzion lodando di viver sempre mai senza consorte». «Che colore vorresti portar», disse Virginia, «e che livrea sarebbe la vostra?». «Vorrei», disse Leonora, «aver l'arme e sopravvesta bianca da nove il cavaliero, e nello scudo un gioco d'oro rotto nel mezzo che significasse libertà». «Quella candidezza», disse Cornelia, «avrebbe ben del buono a dimostrare la semplicità e purità nostra, ma parmi che il color verde vi si converrebbe molto meglio per arrecarci speranza della vittoria, che perciò l'impresa dell'auro seria più a nostro proposito. Secondo quel verso, arbor vittoriosa e trionfale, e quell'altro alla vittoriosa insegna verde». «Basta», disse Leonora, «fussimo pur nei termini che io dico, che poi allora faressimo le lezioni di quel che vi paresse meglio». «Il color verde e giallo insieme misto», disse Corinna, «piuttosto seria conforme e proporzionato alla nostra condizione, per la poca speranza che avemo di mai acquistare la grazia degli uomini, essendo essi così ostinati e perversi contro di noi, che se ben ci fosse dato ad acquistare le loro persone per forza, mai non acquisteressimo la loro volontà per amore». «E però», disse Lucrezia, «saria meglio che noi vestissimo il vermiglio chiaro ad inotare la desiderata vendetta contro di loro, con l'impresa del sole e confuso tra la nebbia, che stesse per inspuntar fuori, e col moto che dicesse «in nube spero».» «Anzi», seguì Elena, «perché il desiderio della vendetta non regna in magnanimo cuore, come asserimo essere il nostro, faressimo bene a portare il rosso scuro, significando l'allegrezza, non pur della sperata vittoria, ma di fargli uomini tutti nostri, perché vorrei che dopo il vincerli di valore, gli vincessimo anche di cortesia e gli usassimo clemenza per raddoppiare la nostra gloria». «Parmi», disse Virginia, «che non sarebbe inconveniente se noi avessimo l'arme nere tutte sparse di bianche colombe, per alludere alla fermezza con che noi amamo questi uomini e dallo schietto e semplice amore che loro portiamo». «Piacemi molto», disse Lucrezia, «la invenzione di queste imprese, ma si ricerca loro, oltre alla vaghezza delle figure, anche la vivezza del motto, senza il quale è muta e morta». «Sonovi diversi libri», disse Corinna, «che trattano di questa materia, li quali voi ben dovete aver veduto, però lasciamo stare questo». «Questa varietà di imprese e colori», disse la regina, «è come un linguaggio che si intende senza parlare, e con cui l'uomo fa sapere l'intrinseco del suo cuore graziosamente. Però», disse quel poeta parlando dei cavalieri che si preparavano alla giostra, «chi sopra l'elmo o nel dipinto scudo disegna amor, se l'ha benigno o crudo». «Molti sono i linguaggi che si intendono senza parlare», disse Eleonora, «ma quelli degli sospiri penso io che sia più efficace di tutti». «Però», disse un gentil spirito in una canzone, parlando in questa materia, «certo non così puote, diserta lingua in note e di profonda eloquenza, in prosa o in rima, muovere un cor, quant'alma, che ben anzi è merce muta sospirando chiami». «Dica chi voglia», disse Cornelia, «che a mia giudizio stimo io sopra tutto quello degli occhi, i quali ben si può dire che parlino e che scoprano con gli sguardi l'intrinseco dei cori». «O che eloquenti oratori sono gli occhi per narrare la loro causa, che valenti soldati per ferire i loro nemici e che dolci lusinghieri per allettargli i coramici. Da questi intendete odio, amore, speranza, paura, dolor, allegrezza, sdegno, vergogna e tutti gli accidenti e passion dell'animo nostro». «Sì, quando vogliono», ripigliò Corinna, «ma spesso anche ingannano, mostrando una cosa per un'altra. Ma li sospiri non erano mai, perché da buon senno, quando uno non ha voglia di sospirare, può ben fingere, ma si conosce troppo bene la sua falsità». «Dè», disse Leonora, «che negli uomini ogni cosa è finta, e sguardi e sospiri e colori e parole e opere, né mai si discopre la verità del loro animo, né quando operano cosa alcuna di cuore, se non quando ci fanno qualche oltraggio e dispiacere notabile». «Appunto egli è così», disse Cornelia, «ma credo ben io che voi non vi lascerete più ingannare in nessun verso da loro». «Certo non», disse ella, «ma mi incresce che vorrei che neancor voi altre vi lasciaste da loro finzioni convincere. E per dire a proposito di colori, quanti vestono l'incarnato o il verde per fargli innamorati, che lor starebbe più convenevole il berrettino o nero, secondo la fraude e l'esperto inganno che sta lor nel core». «In questa città nostra», disse la regina, «non si usa dagli uomini da una certa età in su portare abiti colorati come fanno fuori, ma è sempre di negro. Anche le donne fuori di casa non si reggono troppo andar vestite di colori, salvo innanzi che siano sposate». «Quasi», disse Lucrezia, «il negro a porti un non so che di reputazione d'onore più che gli altri». «Certo», disse Cornelia, «che in questa terra sono più belle che altrove, parlando degli abiti, mirate di grazia, se non par che il vestir nostro sia veramente femminile, poiché dimostra una certa grazia e delicatezza che solo è proprio della donna, dove all'incontro l'abito delle donne forestiere, par che sia più da maschio che da femmina». «Soprattutto», disse Elena, «questa usanza di portare i capelli biondi ha non solamente del donnesco e del gentile, ma porge un'aria nobile, e insomma chi ha una bella testa bionda le viene dato titolo di una bella donna». «Oh», disse Cornelia, «se gli uomini ci udissero favellardesi fatte cose, quanto si riderebbero essi di noi, poiché dicono che non siamo buone per altro che per pulirci e lisciarci». «Lasciateli pur dire», rispose Corinna, «che perciò non ci ingiuriano essi che la gentilezza e politezza nostra procede dalla nobiltà del nostro animo, a differenza delle rustiche e vili persone, non dico tanto di sangue quanto di animo e di costumi, le quali se ne vanno così alla grossolana, e chissà quali pensieri nutrisca tale esprezzatura di abito e di membra». Ben sapete voi quel che giudicò Lucio Silla di Giulio Cesare quando disse a senatori romani che si guardassero bene da quel giovane malcinto.